Marco da Milano, al quale chiedo, certa stampa americana già evoca la vicenda di Amanda Knox parlando di una giustizia italiana inaffidabile. Davvero quella foto rischia di, come dire, mandare a carte 48 l'indagine con il rischio che con dei buoni avvocati questi presunti assassini vengano sottratti alla giustizia italiana e riportati negli Stati Uniti? Il rischio c'è, è stato già detto adesso dall'onorevole Morani, che come ricordavi anche un avvocato, oggi lo dicono in tanti, lo scrivono in tanti, l'immagine ha una potenza più forte delle parole pur doverose e legittime del procuratore Salvi e superiori forse alla realtà di un interrogatorio che è avvenuto con le piene garanzie. Però quell'immagine richiama un paese di cui noi non vorremmo vedere questa immagine. In quella foto mi ha colpito che sulla parete ci sono due foto, il generale Carlo Alberto Dallacchiesa, ucciso dalla mafia il 3 settembre 1982, e Falcone e Borsellino. Uomini di ordine, il generale Dallacchiesa ha combattuto la mafia ma anche il terrorismo rosso in modo duro, in modo determinato, così come l'hanno fatto i giudici Falcone e Borsellino, ma sempre dentro le regole della Costituzione Repubblicana, dell'articolo 13, che non prevede violenza per chi viene privato della libertà personale, dell'articolo 27, che nega la pena di morte e parla di rieducazione per il condannato che sconta una pena. Ecco, quelli sono gli eroi e quella foto non faceva onore e giustizia a quegli eroi che erano attaccati sulla parete. Dal punto di vista legale certo che rischio è certo.